Lui è Titan, un labrador nero di 5 anni, che assieme alla sua collega Quattro Zampe Puma, grazie al loro infallibile fiuto, salvano la vita ai nostri amici animali e non solo. Loro sono gli unici cani, l'unica attività sinofila che mi risulta che lavora a difesa di altri animali. I due cani fanno infatti parte delle unità sinofile e antiveleno dei carabinieri forestali. È molto più pericoloso di quello che si pensa. Io ricordo il primo intervento in assoluto fatto con Puma in una località urbana, in un territorio urbano, e trovammo le esche posizionate in un parco giochi per bambini. Il loro compito è quello di scovare bocconi avvelenati che purtroppo ciclicamente, soprattutto in primavera e in autunno, vengono lasciati all'interno di giardini e parchi pubblici dove anche famiglie e bambini trascorrono del tempo. Una ricerca basata sull'attività ludica del cane. Il cane sa che nel momento in cui rispetta tutte le regole del gioco otterrà un premio e il loro premio è il gioco. Tra le regole fondamentali di questo gioco è il tipo di segnalazione. Avete visto che quando trovano il target si siedono. Questo permette al cane di lavorare in sicurezza. Dopo i controlli in Val D'Arno, Titan e Puma hanno così passato al setaccio anche alcune aree verdi della Val di Chiana, ma il loro lavoro si estenderà in tutta la provincia di Arezzo. Andiamo in aree dove c'è stata storicamente una problematica di questo genere o dove presumiamo, la stazione locale presume che ci possa essere l'interesse a fare attività delittuose di questo tipo.